Due giorni prima di Natale, una partita in casa con il debutto di Cinciarini che torna davanti ai suoi tifosi, ci sono tutti gli ingredienti per poter vivere una bella serata e credo che voi ci teniate tanto. Ci teniamo molto e poi oltre a quello che hai detto per chiarità però c'è la partita, la partita ci metterà davanti a un banco di prova importante, sono partite che stanno tra parentesi all'interno di una stagione perché veniamo anche da un risultato positivo, vorremmo dare continuità oltre al risultato anche alla prestazione nel senso di miglioramento perché lo stiamo cercando di fare quindi sì gli ingredienti però siamo molto concentrati sui 40 minuti perché ripeto sono un po' a sé stanti. Varese innesta un nuovo giocatore, un giocatore che poi si adatta perfettamente alle caratteristiche della squadra, Nico Menion, come vi siete preparati su di lui? Che cosa ti aspetti anche perché ha fatto solo un paio di allenamenti credo? Sì ma guarda al di là degli allenamenti visto anche la tipologia del giocatore, il talento di giocatore, le sue capacità, lo stile di gioco si compenetra molto bene e quindi ci siamo preparati continuando a prepararci su noi stessi a quello che dobbiamo fare aggiungendo ovviamente l'attenzione che Menion necessita però è una partita che va vista nel suo insieme e anche nella sua interpretazione perché dobbiamo essere molto concentrati su certi giocatori, sui giocatori, sul tipo di gioco che hanno ed avere la forza mentale di tenere per quanto possibile il pallino del gioco in mano. Sarebbe bello fare una doppietta, finora non vi è mai riuscito di mettere in fila due vittorie, è importante per una continuità, per il morale, per la fiducia? Sì ma noi ce l'abbiamo morale e attenzione perché ci rendiamo conto che stiamo lavorando ma quello che dici tu è vero perché poi ci sono dei momenti anche diciamo della stagione in cui sai tu senti che stai piano 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 lavorando per alzare il livello e progredire anche il fatto di avere le vittorie o la consecutività di questo ti aiuta senz'altro ci proveremo perché ci teniamo moltissimo.